Ci sarà un'interrogazione parlamentare da parte dei deputati di Alternativa Libera sulla nomina da parte del Tribunale di Arezzo di Giovanni Grazzini come curatore fallimentare di un'importante azienda Giovanni Grazzini che faceva parte del CDA della vecchia Banca Etrugia. Voi sollevate dei dubbi di opportunità di questa nomina? Sì, certo, chiaramente al di là della persona che noi chiederemo al Ministro della Giustizia come mai un ex membro di Banca Etrugia indagato attualmente dalla Procura dalla stessa poi viene nominato come curatore fallimentare per un altro fallimento se appunto questa nomina quantomeno è opportuna appunto, cosa ne pensa il Ministro? Poi sulla nomina stessa noi non mettiamo bocca perché quella ovviamente è una decisione del giudice e va rispettata però quantomeno chiedere al Ministro cosa ne pensa appunto se questa nomina era opportuna oppure no. Ecco, nell'articolo del giornale che ha pubblicato questa notizia si fa riferimento a un altro conflitto di interesse diciamo che si manifesta nella vicenda di Banca Etrugia soprattutto poi nella parte diciamo dell'inchiesta. Sì, anche perché nel frattempo c'è anche una sanzione di Banca Italia sugli ex membri del CDA di Banca Etrugia sulla quale c'è stata appunto anche una sanzione e quindi vedremo insomma cosa s'è innanzitutto e poi cosa risponderà il Ministro. Grazie.